Allora amici, come va la guerra? Certo, lui vende armi. Semplice. Ma non a tutti. È una battaglia per la sopravvivenza del suo paese. Ha degli ideali. Ma la mia parte quant'è? Ora ad esempio deve decidere su due piedi. Salve! Poggio ancora. Gesù mi ha sparato al piede! Su uno. Risate a non finire con Ceri Chase e Sigourney Guiva. L'affare del secolo. E questo è in omaggio.